Bene, vediamo come usare il custom npc per fare una sorta di quest, cioè di tipo caccia al tesoro quindi per farlo dobbiamo avere installato custom npc e avere soprattutto l'npc wand quindi dobbiamo prendercela e mettercela nell'inventario, per esempio 8 a questo punto quindi dobbiamo poi ricordarci di avere 8 con questa bacchetta e 9 vuoto per poter interagire con i personaggi facciamo 8 in npc wand e andiamo a piazzare un personaggio e mettiamo per esempio un re, quindi mettiamo re ar tu e diciamo che questo personaggio si chiama re dei re e gli mettiamo la texture di un re, ce l'abbiamo, un bel re king questo e per momento vediamo cosa abbiamo fatto vedete che abbiamo creato un re ar tu che se, con 9 ecco vedete che ci dice, ci dice ciao quindi è un personaggio che è in grado di parlare ma al momento non sa fare nient'altro quindi dobbiamo insegnargli a parlare, a dire qualcosa di un po' più interessante quindi per esempio l'idea è quella che quando lo chiamiamo lui si presenta, quindi ci dice sono air tu eccetera eccetera e poi ci permetterà di fare un dialogo con lui allora quindi lo andiamo a cliccare, selezionare e poi dobbiamo, allora iniziatutto vediamo che questo è tutta la programmazione di quel personaggio ma c'è una linguetta globale che serve per indicare i dialoghi o le quest insomma eccetera, globali a tutti i personaggi quindi prima di tutto dobbiamo avere uno dei dialoghi associati in particolare al re ar tu ad esempio quindi cosa facciamo? dobbiamo, facciamone uno nuovo questo qui magari lo chiamiamo re ar tu 0 ok, quindi abbiamo chiamato nome e creiamo un'altra categoria che la chiamiamo lui che chiamiamo re ar tu che lo rifacciamo da capo re ar tu allora re ar tu è diventato questo lo riempiamo con i dialoghi quindi i dialoghi di re ar tu dobbiamo introdurre ad il primo dialogo che gli inseriamo è, diciamo il titolo è, diciamo, saluti saluti sarebbe il nome simbolico con cui lo chiamiamo e il testo del dialogo vuol dire che quando lo clicchiamo lui ci risponde e ci dice buona giornata io sono il mitico re ar tu ok, quindi desideri qualcosa ok quindi a questo punto possiamo modificare anche quando è che è disponibile questo dialogo quindi edit si dice quando abbiamo già fatto dei dialoghi prima se siamo all'interno di una certa quest se siamo a una certa fazione eccetera quando è che è disponibile questo dialogo tutto il giorno e quanto è il livello minimo di esperienza ma noi andiamo in particolare a vedere le possibilità delle opzioni quindi edit vediamo le dialog options e mettiamo la prima cosa e mettiamo come titolo mettiamo mettiamo per dire il dunque buongiorno ecco diciamo che noi buongiorno l'option type gli mettiamo che è un dialogo e che va a un altro dialogo adesso qui per dire andiamo può andare a una categoria di un altro personaggio di se stesso e dobbiamo averlo creato per il momento non c'è questa opzione facciamo back la creeremo fra poco ma soprattutto abbiamo l'opzione di dire buongiorno oppure l'altra opzione di dire c'è ha un incarico per me punto interrogativo e poi si manderà al dialogo e poi ci sarà un'ulteriore opzione che diciamo addio e questa opzione la mettiamo in realtà close ok quindi vedete che abbiamo fondamentalmente possiamo dirgli buongiorno ha un incarico per me oppure un parlare così ok allora se facciamo così vediamo un po' se funziona quindi andiamo 9 facciamo tasto destro e lui ti dice lo sa quindi non ci sta attivando ah no perché dobbiamo dirgli 8 di attivare sul dialogo quindi advanced i dialoghi dobbiamo mettere che lui parla con i saluti tac ora questo punto 9 se lo clicchiamo vedete che ci fa vedere soltanto le opzioni che hanno un significato in questo caso solo l'addio che va via perché ci sono le altre opzioni ma non gli abbiamo messo il dialogo corrispondente quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare addio ok adesso per vederlo un po' meglio possiamo fare mettere che un'opzione gli vada su un'assegnazione di una di una quest di una caccia al tesoro quindi come facciamo andiamo su 8 con la nostra mitica bacchetta e poi andiamo su global e nei dialoghi li creiamo sempre sotto rare2 andiamo sui dialoghi e c'è un dialogo che facciamo assegna e incarico ok e ok e poi ne mettiamo un altro che gli diciamo un saluti cioè saluti ci vediamo un'altra volta aspetta dobbiamo mettere saluti e poi qui nel dialog test diciamo ci vediamo ci vediamo un'altra volta quindi questo quindi abbiamo l'assegna in carico che è questo dice ho bisogno di questo di questa cosa e poi gli potete mettere le cose di cui ho bisogno e invece questo ci vediamo un'altra volta quindi lo chiamiamo commiato ok quindi nel momento in cui andiamo sempre in rare2 e nei dialoghi di rare2 abbiamo i saluti originali dove nelle opzioni abbiamo vedete prima conferiva soltanto addio qui gli mettiamo edit ha un incarico per me sì e quando gli diamo l'incarico c'è l'assegna in carico via quindi così abbiamo assegnato l'incarico invece questo buongiorno se gli diciamo buongiorno andiamo nel dialogo che è sempre rare2 è commiato ok adesso proviamo questo dialogo time set day ok quindi 9 lo clicchiamo e vedete rare2 buongiorno a te sono il mitico rare2 desideri qualcosa allora noi possiamo dirgli buongiorno vabbè lui in realtà ha risposto con il dialogo che gli mettiamo prima ci vediamo altra volta ed è finito ma se noi invece gli avessimo detto ha un incarico per me lui ti direbbe ho bisogno di questa cosa e abbiamo visto che se facciamo addio si chiude semplicemente il nostro cioè senza un dialogo particolare perfetto ora c'è una piccola cosa che ancora possiamo vedere che è quello di dunque clicchiamo e mettiamo nel cambiare modalità di visualizzazione dei dialoghi mi sembra che ci sia quindi se rare2 dialogs e poi facciamo saluti extra options abbiamo la possibilità ad esempio di mettere il yes dialog wheel questo dialog wheel lo vediamo subito quando parliamo con il nostro re tasto destro vedete che compare questa opzione buongiorno un incarico per me addio quindi ha un incarico per me ho bisogno di questa cosa va bene ora però dobbiamo far partire la la quest quindi la vera caccia al tesoro quindi dobbiamo creare una quest quindi andiamo in global e mettiamo che ci sia una nuova quest e questa quest la chiamiamo per esempio trova tesoro e andiamo sul ok sul adunque categoria no quindi avevamo quindi la quest tesoro quindi abbiamo la tesoro quindi tesoro uno e qui diciamo questa è una quest che quando viene completata dobbiamo dire complimenti complimenti hai trovato il tesoro ok quindi va bene allora il quest log test dice deve ricordare quindi devi trovare il tesoro quindi è un ricordo per capire cosa si deve fare la ricompensa dunque cosa diamo per ricompensa quando lui ha fatto questo suo mestiere possiamo dargli qualunque cosa dal nostro inventario quindi dobbiamo più che altro averlo già a disposizione nel nostro inventario per darglielo adesso per semplicità gli diamo semplicemente una sedia però potrebbe essere qualunque cosa oppure facciamo una cosa gli mettiamo proprio andiamo proprio nell'inventario vero quindi facciamo e andiamo a prendere un regalo interessante per esempio allora ci prendiamo gli regaliamo una chitarra oppure diciamo e e e e e e magari gli possiamo regalare anche possono dare anche dei soldi ad esempio o delle cosine tipo questo ok questo qui sarebbe moneta di bronzo forse non è un gran che bella moneta d'oro moneta di diamante moneta di diamante questa ok quindi adesso che abbiamo i pezzi torniamo nel nostro nella nostra quest e diciamo che trova tesoro che ha la quest 1 tesoro 1 la ricompensa che gli diamo è una moneta di diamante e poi gli diamo magari anche la chitarra ok perfetto e invece diciamo che cosa cosa ci deve trovare ci deve trovare un tesoro ma il tesoro che cos'è il tesoro sarà composto da da un tot di cose che deve trovare per esempio diciamo che il tesoro sarebbe uno stufato di funghi no quindi vuol dire che il tesoro è uno stufato di funghi ok quindi nel momento in cui noi riusciamo ad ottenere lo stufato di funghi nel nostro inventario la la quest è completata però attenzione per essere veramente completata bisogna andare poi a parlare con questo personaggio quindi adesso è tutto impostato quindi noi quando abbiamo cioè è tutto impostato abbiamo impostato la quest però bisogna mettere nella nella global dei dialoghi di di rare to quando assegna l'incarico gli diciamo che è la quest che vogliamo far partire e trova tesoro e in particolare tesoro 1 ok quindi tesoro 1 e qui si può dire anche rumore ma lasciamo perdere così allora vediamo se funziona quindi 9 allora qui lui dice ok buona giornata se non dimentico Rartu desideri qualcosa e noi gli diciamo ha un incarico per me sì ecco allora ho bisogno di questa cosa e vedete che si è stato assegnato a questo incarico quindi lui dice nuova nuova impresa questa si traduce anche come impresa allora cosa devo fare per l'impresa nel dialogo lui potrebbe averlo scritto ma se scriveremo L lui ti dice quali sono le imprese che dobbiamo fare e quindi vedete che trova tesoro per soddisfarla allora qui praticamente possiamo vedere il testo dell'impresa da fare questi sono gli obiettivi mi dice quali sono le cose che devo trovare mi dice quanti ne devo trovare e quanti ne ho nel mio inventario quindi mi mancano ok quindi adesso ci manca una mushroom stew cioè quindi uno stufato di funghi e per ottenerlo cosa faccio devo trovarlo da qualche parte quindi per esempio in una cesta oppure adesso io lo farò in maniera ovviamente truccata nel senso che facciamo stew ok mushroom stew ok ci abbiamo mushroom stew ok allora la cesta dice che è completata ma se noi facciamo l è completata nel senso che ho tutti gli elementi però per completarla devo andare da rear 2 quindi devo tornare da rear 2 e in qualche modo fargli il nuovo tasto destro e lui dice complimenti hai trovato il tesoro questo era il testo di completamento facciamo complete e lo vedete che mi da la chitarra e la moneta d'argento ora questa moneta di diamante allora questa moneta di diamante e questa chitarra possono a loro volta essere gli obiettivi o gli ingredienti per la prossima quest e come avete visto si possono avere n quest in corso quindi la cosa è credo non so se avete colto come funziona vediamo un po' quanto è molto lunga questa registrazione ma siamo direi che è fattibile come difficoltà